Il Comune di Controguerra ha deciso di acquistare diverse piantine di pomodoro abruzzese da rivendere a prezzi vantaggiosi ai propri cittadini. Con questa iniziativa si punta da un lato alla salvaguardia di una tipicità del territorio vibratiano, dall'altro alla promozione dei cosiddetti orti domestici che permetteranno di mangiare sano e consentiranno anche un risparmio economico per le famiglie. L'obiettivo di tale progetto è diffondere la cultura del pomodoro per abruzzo, quindi pomodoro tipico abruzzese. L'obiettivo è quindi di radicarlo sul territorio come cultura di questo pomodoro, tant'è che il Comune abbiamo acquistato 9.000 piantine presso il livello di Grotta Mare e le cerchiamo di promuoverle rivendendo allo stesso prezzo ai nostri cittadini, in realtà stiamo vendendole a 5 centesimi a piantina. Quindi l'obiettivo in realtà è quello di promuovere questa cultura del pomodoro per abruzzo e riscoprire la tipicità del pomodoro a Controguerra, che è una cultura contadina profonda e impegnata, quindi alla fine abbiamo avuto un riscontro ottimo da parte della cittadinanza perché tante sono state le pronotazioni da parte di queste piantine. Poi alla fine con Arsa passeremo a controllare il tipo di coltivazione, quindi a dare anche consigli ai nostri agricoltori su come coltivare questo polo per abruzzo e quindi anche capire le tecniche di coltivazione, magari verificare eventuali errori sulla coltivazione. Il signore è passato a prendere 300 piantine di pomodoro per una spesa totale di 15 euro, un bel risparmio. Ho pure i figli, capite? Ho due figli e allora gli vuoi fare i bottiglietti di pomodoro. È contento di questa iniziativa? Sì, sì, sì.